C'è il prossimo futuro della televisione digitale, l'ultraidefinition. Sono, in questo caso, immagini VHD1, anche conosciute ormai a livello commerciale con la sigla 4K. Il 4K indicano sostanzialmente la risoluzione orizzontale. Qui abbiamo 3840 pixel per 2160 linee. Le immagini che stiamo vedendo in questo momento sono state prodotte l'anno scorso per Torino. Sono segnali di test che, prodotti in un progetto insieme all'ambito EU, sono utilizzati adesso a livello mondiale per testare i nuovi sistemi di clip. Il 4K significa, l'ultraidefinition significa più risoluzione, un frame rate più elevato. In questo caso vediamo ancora solo 25 frame al secondo, che sono i classici equivalenti al classico cinematografico, ma l'ultraidefinition prevede, fra uno dei più elevati, dai 50 ai 100 Hz, una capacità di resa dinamica dei colori più ampia, anche una maggior dinamica in sede del segnale. Sicuramente con questa telecamera non riuscirete a riprendere e portare a casa le immagini, quindi l'unica è poterle vedere dal vivo e rendersi conto della loro qualità. Grazie. Grazie. Grazie.